maturità 2023 news e voti borse di studio e agevolazioni per chi si iscriverà all'università simulazioni test medicina date maturità 2023 podcast mappe concettuali 88 non bisogna ascoltare coloro i quali credono che dobbiamo adirarci fieramente con i nostri nemici e anzi vedono appunto nell'adirarsi il carattere distintivo dell'uomo magnanimo e forte no le virtù più belle le virtù più degne di un uomo grande e nobile sono l'amitezza e la clemenza negli stati liberi in cui regna l'uguaglianza del diritto bisogna anche dare prova di una certa arrendevolezza e di quella che è solita chiamarsi padronanza di se per non incorrere nell'accusa di inutile e odiosa scontrosità se ci capita di adirarci con visitatori inopportuni o con sollecitatori sfrontati e tuttavia la mite e mansueta clemenza è degna di lode solo a patto che per il bene superiore dello stato si adoperi anche la severità senza la quale non esisterebbe nessun governo ogni punizione e ogni rimprovero però devono essere privi di offesa e mirare non alla soddisfazione di colui che punisce o rimprovera ma solo al vantaggio dello stato 89 bisogna anche stare attenti che la pena non sia maggiore della colpa e che non avvenga che per le medesime ragioni alcuni siano duramente puniti altri neppure richiamati al dovere è da evitare soprattutto la collera nell'atto stesso del punire chi si accinge al castigo in preda alla collera non manterrà mai quella giusta via di mezzo che intercorre fra il troppo e il poco metodo che piace tanto ai peripatetici ed è giustamente gradito ma poi non dovrebbero lodare l'ira dicendo che essa è un utile dono della natura no l'ira deve essere tenuta lontana in tutte le cose e bisogna fare in modo che i governatori dello stato assomiglino alle leggi che sono spinte a punire non per impeto d'ira ma per dovere di giustizia grazie grazie